crashare game e tutto perché non puoi rejoinare dopo intanto la partita è cominciata in basso a sinistra il nostro amico Seizan del team Audere Semper Lega Diamante che si sfiderà con Castle su questa mappa che è Regno delle Nuvole Castle presente in alto a destra sponato in alto a destra del team Nets Gaming col colore blu, azzurrino celeste mentre il suo avversario colore giallo arancione, Protoss contro Terran il Protoss Seizan contro il Terran Castle, Seizan non so se è Best of 3, si è Best of 3, gli risponde Castle giustamente se vuoi dire qualcosa, non so cosa tu possa dire perché di solito tu dai le informazioni sui giocatori ma Team Liquid non ti ha aiutato stavolta? Eh, ho cercato anche in questo caso come sempre mio compito, qualche informazione ma a parte l'età giusto per Castle, una ventina d'anni insomma un giocatore ancora abbastanza giovane per quanto riguarda i gamer e i giocatori è un po' in ritardo dei coreani però sì, dicevo, non coreani perché per i coreani già vent'anni devi essere affermato e avere pure una bella carriera alle spalle ma purtroppo noi non abbiamo quel tipo di skill innata quindi non possiamo fare molto qualcuno sta laggando plamorosamente non so se sono io, spero di no probabilmente sei tu perché io non sto laggando e allora sono dolori perché lo streaming laggerà anche lui ma vedremo se tutto si risolverà ben presto io provo a chiudere qualche cosa di qua e di là sperando che ci sia giuramento non succederà la morte di tutto lo streaming comunque questa sondina ha attaccato l'SCV che stava facendo la caserma e l'ha ritardata per un po' infatti il nostro amico Castle è stato costretto a mandare un SCV di scorta e a cambiare l'SCV che produceva la caserma per evitare che fosse ucciso intanto questa sonda di Seizan sta ritardando probabilmente l'espansione di Castle oppure stava cercando semplicemente di scappare dalla morte a causa di questo SCV veramente cattivo e va a prendersi la Tselnaga Seizan e aspetta probabilmente la sua build è normale infatti è partita con un gate e ovviamente ora arriva pure il centro cibernetico arriva pure il centro l'assimilatore, un assimilatore per Seizan che rimanda la sua sonda in base del Terran per controllare se non c'è un'espansione intanto il Terran è partito giustamente di OneRax FE OneRax Fast Expand ha messo l'espansione da pochi secondi e sta producendo ora il primo Marine se non sbaglio il comando orbitale è già completato vedremo probabilmente questa OneRax FE che si tramuterà in 3 Rax con l'espansione abbastanza veloce intanto questa sondina rimarrà bloccata a vita perché c'è un Marine cantivo pronto a spararle fino alla morte prova ad attaccare il deposito ora ci sono due Marine che possono fargli venite male infatti ora la sondina è morta lo scout di Castle è arrivato in questo momento se non sbaglio infatti vedo l'SCV che si allontana poco a poco e l'espansione da parte di Seizan è stata messa in produzione giusto ora un secondo assimiliatore intanto sì secondo l'assimiliatore intanto cronoboost sul core per avere il più velocemente possibile il centro cibernetico mi sembra che i due giocatori stiano puntando a un macro game entrambi infatti hanno entrambi un'espansione vedremo successivamente cosa intendono fare per ora Castle sta andando con una seconda Rax quindi è appreso già in questo momento sta ultimando le due raffinerie quindi probabilmente deciderà di fare qualche altra giocata ricercherà probabilmente abbastanza velocemente lo Stimpa che infatti ha già il gas per un modulo tecnologico probabilmente lo metterà giusto ora invece mette un reattore probabilmente vuole fare una giocata di marine veloci ah no ora mette appunto il il TRECLAB quindi ricercherà lo Stimpa che poi farà una fabbrica giocando Terran so un po' ste cose essendo che comunque non abbia aggiunto una terza Rax come avrei fatto io comunque lui e Master io non ho niente altro da dire intanto questo Stalker da parte di Seizan arriva alla Zenaga dalla parte del Terran la base di espansione è terminata però non c'è nessun lavoratore a minare né il minare né il gas Stimpa partito arriva una Robo da parte di Seizan quindi un 3Gate Robo probabilmente tra poco aggiungerà un terzo Gate immagino lo Stimpa che è stato messo in ricerca da 30 secondi 2 Probe continua a produzione Probe e SCV arriva alla fabbrica da parte di Castle che farà anche lo Starport subito dopo per avere la cura per le sue unità biologiche che di solito i Terran contro i Protoss giocano sempre di bio i marini vengono svuotati vengono svuotati vengono mandati via dal bunker probabilmente vuole fare un piccolo attacco Castle per arrasare il suo avversario e magari rallentarlo un po' arriva un terzo Gate appunto da parte di Seizan che stava facendo un 3Gate Robo questo Stalker cerca di fare un po' di danni all'esercito di Castle però si deve ritirare ora ritirerà poi il secondo Stalker si trova a Senegal per evitare che si uccida e avere il massimo potere d'attacco quando dovrà difendersi arriva lo Starport e un Engineering Bay quindi l'officina bellica per ricercare i potenziamenti intanto Castle va a vedere se c'è una seconda base di espansione da parte del Protoss che comunque non l'ha messa ancora si prepara a difendersi Seizan no infatti no si si prepara a difendersi e l'esercito comunque di Castle si ritira scan sulla main di Seizan per vedere un po' cosa stava costruendo in questo momento infatti individua perfettamente la fabbrica robotica che sta costruendo qualcosa ma è soltanto il primo Observer intanto ha piazzato un Marine sulla seconda espansione di Seizan e Castle quindi aspetta di vedere prima le intenzioni del suo avversario e poi probabilmente sfererà un attacco che sarà abbastanza violento probabilmente arriverà l'attacco quando usciranno le prime due Medivac come di consueto per i Terran che non abbandonano la base senza le loro fidate Medivac intanto continua Seizan a punzecchiare con uno Stalker lì Marine Maraver che ci sono arriva anche la fabbrica che ci sono praticamente sopra la rampa della Natural intanto arriva come dicevo anche la fabbrica Scout da parte di Castle che probabilmente la piazzerà il centro della mappa o addirittura in prossima sulla seconda espansione sulla seconda espansione di Seizan ora questo Stalker forse potrebbe morire cercando di picchiare questa fabbrica che ha appunto l'ologramma del posizionamento sulla seconda espansione di Seizan che per ora ha un immortale un po' di zeroti che sono sei zeroti sei zeroti due Sentry e due tre Stalker no due Stalker e un Observer quindi arriva la Medivac Castle sta per attaccare la vedo brutta per Seizan se non fa dei buoni forcefield potrebbe trovarsi in una situazione un po' perché ha optato soltanto per tre estrattori su quattro praticamente a sua disposizione non so perché quindi ha dovuto investire molto su zeloti e Sentry e due immortali non potendo avere Stalker quindi la vedo un po' difficile per Seizan se non se non usa bene i suoi forcefield eh sì la vedo molto difficile intanto Castle si sta prendendo già metà della costruzione della seconda espansione mentre sta impedendo la seconda espansione a Seizan vedremo un po' che cosa riuscirà a fare intanto c'è pure la ricerca dell'oscuro balistico che aumenta dei 10 HP la vita dei Marine eppure l'uno all'attacco è stato terminato ora drop da parte di Castle che l'ha distratto il suo avversario spostando l'esercito e il drop arriverà direttamente sulla base di espansione se ne è accorto perché c'era un osservatore proprio sull'esercito di Castle ma Castle sta tentennando un po' forse ha intuito anche lui a sua volta qualche cosa o la sta prendendo ancora più larga ma ci sono degli stalker praticamente sul limitare della natural di Seiza che potrebbero intercettare queste due medivac e distruggerle eh c'erano però ora non c'è più probabilmente Castle vuole provare un doppio drop sì penso anch'io infatti sta arrivando in questo momento il drop sulla natural ci sono le unità è uscito anche il primo colosso per Seiza ma le unità si stanno tutte eh a mucchiata praticamente si riesce e tra l'altra parte è arrivato pure il secondo drop in main da parte di Castle riesce a uscire qualche probe prima che la reaction di Seiza le porti le porti a spostare intanto attacca pure dalla base principale attacca pure dalla via d'ingresso principale buoni forse il drop sulla natural mentre il drop sulla main sta mettendo praticamente sta distruggendo sia un estrattore che il Nexus vediamo il drop sulla natural sta distruggendo un po' di sonde è praticamente dovuto allontanarle tutte quante e ora sta scappando forse riesce a salvare entrambe le medivac una è praticamente con 8 punti vita mentre il Nexus sulla main è stato distrutto duro colpo per Seiza lo Psi scende 94 per Seiza 102 per Castle in grande vantaggio 122 per Castle scusate in grande vantaggio oramai ha anche quasi fullato anzi con i moon ha fullato la sua seconda espansione e continua a costruire racks su racks oramai non c'è più non c'è più niente che riesca a fermare infatti ha pure fatto la seconda engineering bay eppure l'armeria quindi probabilmente ricercherà tra poco anche il più 2 all'attacco intanto continua a produzione di colossi da parte di Seiza che si troverà a contrastare anche i Ghost perché l'accademia dei fantasmi è quasi terminata continua a produzione di Marauder Marine e Medivac arriva pure una Viking arrivano pure alcune Viking che serviranno a contrastare questi colossi di Seiza il 2-1 è stato messo in ricerca da parte del Terran con il 2 all'attacco e l'1 alla difesa allucinazione per Seiza che costruisce in questo momento altri due nexus e un'interiore espansione da parte di Castle che ora sta provando ad attaccare dei Force da parte di Seiza riescono a bloccare una buona parte dell'esercito di Castle dalla parte nel punto in cui poteva ancora essere attaccato dagli zelotti intanto si ritira Castle e mette tutto nelle Medivac probabilmente o per salvare oppure per fare un drum drop sulla natural del Protoss probabilmente sta facendo proprio questo infatti il rally point di queste Medivac giusto sulla natural del giocatore Protoss che ora sta dividendo il suo esercito perché un drop in main ha cominciato a distruggere di nuovo i laboratori che stanno minando oppure anche raccogliendo il gas arrivano i primi dei due colossi che scrivono un bel po' di colpi perdono tutti i scudi e anche un po' di vita dato il drop è sulla natural sulla natural ha praticamente metuto un sacco di vittime l'opsy è sceso 85 per Seizan rientrano ora alcuni probe che si erano allontanati erano stati allontanati da Castle intanto ancora il drop sulla main base ormai non c'è più pace era pure un attacco sulla seconda base di espansione di Seizan probabilmente riuscirà a distruggere questo Nexus perché l'esercito del Protoss non arriverà in tempo per la difesa il giocatore Terran sta facendo un bellissimo lavoro di contain del Protoss infatti non può muoversi se no perderebbe tutto un secondo fake drop un fake drop da parte di Castle che manda avanti dei medico a vuote per probabilmente spostare tutto l'esercito del Protoss e evitare la difesa del Nexus di espansione ora Castle si ritira è ottima giocata da parte di Castle sì ormai 190 l'opsy per Castle contro 94 di Seiza che ha perso ulteriormente la sua seconda espansione la prima praticamente la main base totalmente senza probe vedremo un po' che cosa può fare ma non credo che ci sia molto da fare nonostante abbia un buon esercito con tre colossi tre sentry una buona quantità di stalker e tanti zeloti l'esercito di Castle è decisamente superiore con sette medivac arrivano anche le viking per contrastare i colossi e una quantità di marauder e marine impressionante oramai Castle è maxato mentre Seiza è a 100 su 100 anche lui è simblocato infatti Castle si porta all'attacco con tutta la sua armi con position ci sono anche le viking che faranno veramente tanto danno a questi colossi la vedo veramente dura per Seiza ora arriva l'attacco di Castle probabilmente ci stanno le forze infatti force feed in centro alla rampa che riescono a bloccare un bel po' di unità del giocatore ma comunque queste viking stanno mettendo il danno ad area dei colossi e infatti il ggvp da parte di Seiza che purtroppo non ha potuto fare molto e che altro si può dire